Sorride perché ne ho viste tante, probabilmente sì, sorrido perché per stasera ho avuto delle risposte, so che, come parlavo qualche tempo fa dopo una sconfitta, so che arriveremo in fondo, di questo ne sono certo. Voglio fare un complimento, intanto ci siamo giocati a una grande partita, ma dall'altra parte in Porto c'era un alieno, quindi fatemi fare i complimenti a lui, almeno quella è la prima cosa che mi viene in mente, poi riflettendo ci tornerò a pensare ad altro, adesso sto pensando di aver visto qualcosa di fuori dal normale, facciamo i complimenti a Santarelli che ha fatto una prestazione superlativa, non ho parole, guarda, veramente. Non lo so, abbiamo fatto una grande prestazione, non è bastata perché parliamo di grande prestazione e di sconfitta, quindi sarà da stimolo poi per noi nel cercare di fare meglio e nel cercare di migliorarci ancora. La squadra, io ho detto, non ho mai avuto grandi dubbi perché poi i drammi e i problemi ce li creiamo da soli noi, perché la squadra è forte, è fortissima, è una squadra di cui ne ha vato fiero, so che, ti ripeto, so che arriveremo in fondo, abbiamo affrontato, in più di cari abbiamo affrontato una squadra fortissima, tanto quanto per quello che si è visto stasera più di noi, perché poi ha vinto. Cercheremo di fare meglio e di migliorare, ma sono certo che in fondo ci arriviamo, anche quest'anno ci vediamo sicuramente fino alla fine. Ha fatto, stando ai risultati che vedo finora, ho visto qualche spezzone, qualche scampo, insomma, tra i lights, qualche integrale, ha fatto una signora squadra, una squadra che poi sta rispieccando i valori in campo. Sarà una partita difficile, sarà una partita complicata, andremo per fare e per vincere la partita, questo come sempre. Grazie al Presidente Cencetti, in bocca al lupo, grazie a voi Crepi.